E' importante ricordare tutte le donne e gli uomini della polizia di Stato e di tutte le forze dell'ordine che hanno perso la vita per garantire la nostra sicurezza, ma è altrettanto importante che il senso civico delle persone a partire dai bambini sia accresciuto. Dobbiamo ritornare a rispettare le forze dell'ordine, tornare a fare l'educazione civica nelle scuole, dobbiamo ritornare ad osservare e rispettare le leggi. La fiducia delle nostre forze dell'ordine è prioritaria perché solo attraverso la fiducia e la disponibilità a cooperare, possiamo migliorare la società in cui viviamo ed essere tutti più sicuri. Lo ha dichiarato questa mattina il candidato sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che ha partecipato al Memorial Day per non dimenticare, organizzato dal SAP, il Sindacato Autonomi di Polizia, che si è svolto in questura. La prima edizione fu realizzata appena dopo le terribili stragi di Capaci e Via D'Amelio, dove persero la vita i giudici Falcone e Borsellino e i poliziotti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Walter Eddy Cosina, Vincenzo Limuli e Claudio Traiana. Non dobbiamo mai dimenticare tutte le vittime della criminalità, del terrorismo e di ogni forma di criminalità, donne e uomini che hanno perso la vita per fare il proprio dovere. Oggi conclude Di Piazza, abbiamo ricordato tutti i caduti della Polizia di Stato con la volontà di consolidare nelle future generazioni il valore della memoria, della verità e della giustizia. Spiace aver visto l'assenza dei vertici del comune, regione e provincia. Grazie.